ma seguo questa Miriam Santilli da stamattina e ci muoviamo a zonzo senza una meta apparente ora si è fermata e speriamo bene sono un po' stanco scende ma quella quella è la macchina di Tisandro Dallamartyra cazzo hanno una relazione loro due hanno una relazione roba da matti ma proprio con quello schifo proprio con quel Sandro Dallamartyra doveva avere una relazione Miriam devo avvicinarmi direttamente non farmi scoprire devo riuscire a fare delle foto compromettenti devo riuscire a calmarmi e concentrarmi sul loro eh 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 queste sono le foto spettacolari dove quelle che immortalavano Maradona segnare un cosimo i nuovi mondiali eh ecco l'obiettivo non l'avevo tolto eh ecco l'obiettivo non l'avevo tolto eh eh non l'avevo tolto eh non l'avevo tolto eh non l'avevo tolto eh non l'avevo finito ma eh oddio ma almeno il finale la fatemelo riprendere beh meglio di niente comunque la società mi scrivo pure io mi so eh non si fanno mancare niente No, no, no! Grazie a tutti